Nessuna di queste rovine è visibile da qui. Se mio padre è stato da queste parti, di lui non vi è alcuna traccia. Ancora non capisco come la Thailandia sia connessa ai vichingi. O alle rovine sotto il Mediterraneo, o addirittura ad Amano. E là è Mzip. I miti usano nomi differenti, ma si riferiscono tutti ai resti del mondo antico. Uno di questi resti esiste ancora. Non vorrei essere nei panni di Amanda, se Natla riuscisse a liberarsi. Io non vorrei essere nessuno di noi. Non vorrei essere nessuno di noi. Io non vorrei essere nessuno di noi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.